ciao torno sul canale dopo una bella influenza e non solo infatti non sono ancora al top con un nuovo topi di biblioteca in cui vi presenterò un libro davvero particolare ovvero una cosa divertente che non farò mai più di david foster wallace perché dico particolare questo libro in realtà nasce come un reportage per una prestigiosa rivista che incarica appunto l'autore di scrivere un resoconto su un'esperienza davvero molto esclusiva su una crociera di una settimana tra la florida e il mare dei caraidi forse addirittura la più esclusiva di tutte almeno per l'epoca ne risulta una spietata ed ironica descrizione dell'americano medio in vacanza ma io in realtà ci ho visto benissimo anche gli italiani questa descrizione dà appunto la sensazione di trovarsi all'interno della stessa nave al fianco dello scrittore si tratta di un libro sicuramente diverso perché non c'è una vera e propria trama ma è più un esercizio di sile diciamo a mio avviso geniale che è mascherato però da reportage che viene o adorato come nel mio caso o appunto viene odiato la lettura per me è stata leggera ma non ve lo consiglio se state per fare una crociera perché l'ultima cosa che si ha voglia di fare dopo averlo letto in realtà è proprio una vacanza del genere spero che il video ti sia stato utile nel caso lascia un bel like e se hai letto il libro fammi sapere che ne pensi con un commento qui sotto se sei nuovo da queste parti mi raccomando di iscriverti al canale e attiva anche la campanella per non perderti i prossimi video in descrizione trovi tutti i miei social per seguirmi nelle mie avventure occhio che ho cambiato account instagram per cui controlla di avermi riseguito e come al solito vi do appuntamento al prossimo video dicendovi have a nice life